Lunedì, rinforza l'anticiclone africano per cui a parte qualche precipitazione sul Piemonte occidentale, per il resto avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature miti Martedì, pressione di nuovo in diminuzione pertanto dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel pomeriggio inizierà a peggiorare al nord-ovest con piogge via via più diffuse in serata. Lunedì, dominio dell'anticiclone africano e così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Clima caldo Martedì, regime di alta pressione pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima caldo Lunedì, regime anticiclonico sulle regioni, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Clima caldo Martedì, la pressione torna a diminuire pertanto dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuboloso, verso sera peggiorerà su Sardegna e Sicilia con temporali anche forti.